Ehi sì, tu, proprio tu, ascoltami attentamente perché è una cosa veramente importantissima da dirti. Infatti per questa stagione 5 sto aprendo un secondo contest che ha visto già un primo vincitore e il prossimo potresti essere proprio tu. Tutto quello che dovrai fare per essere messo all'interno del contest è iscriverti subito al canale e attivare la campanella delle notifiche. Dopodiché rompere di mi piace questo video per farmi capire che sei contento sia dell'estrazione che del contest. Poi dovrai commentare sotto questo video scrivendo hashtag contest. Stato tutto questo entrerai automaticamente nella lista e il prossimo vincitore potresti essere proprio tu. Per l'altro ragazzi bentornati in un mio nuovo video, sono Leto19 e ragazzi eccoci di nuovo in un altro video di Fortnite. Oggi sono qui con un altro video glitch barra bug perché vi andrò a far vedere un qualcosa di veramente assurdo. Infatti vi andrò a far vedere una clip che vi mostrerà come diventare invisibili su Fortnite e vedremo anche come. Vi assicuro che è un glitch funzionante che è tuttora possibile fare nel gioco e quindi ragazzi mi raccomando guardate questo video fino alla fine e lasciate subito un bel like. Inoltre questa settimana ci sarà anche il vincitore dei 1000 vbucks quindi mi raccomando se ancora non siete entrati nel contest fatelo subito. Allora tutto quello che vi servirà per fare questo glitch che vi permetterà di essere completamente invisibili su Fortnite è il seguente. Gli oggetti che ci serviranno per attivare questo bug sono due, sono il launchpad e il missile guidato. Premetto però che questo glitch non serve per essere invisibili, muoversi nella mappa e uccidere gli avversari. Ma è un glitch che ti permette di essere completamente estragnato dalla partita quindi tu non potrai vedere nessun altro e gli altri non potranno vedere te. Quindi nel game non potrebbe avere molto senso però se volete provarlo fatelo. Anche perché non è semplice trovare in una singola partita un missile guidato e un launchpad. Però se avete quella botta di fortuna e trovate all'inizio del game sia un launchpad che un missile guidato beh potete farlo subito. Come vedete la persona che attiverà questo glitch sarà completamente immune a qualsiasi danno e veramente ragazzi sarà glitchata. È incredibile come un gioco come Fortnite ad ogni aggiornamento abbia comunque dei bug molto importanti. Allora nel momento in cui farete questo glitch dovrete essere assolutamente attenti. Perché la prima cosa da fare sarà creare una pedana dove andrete a mettere il vostro launchpad. Dopodiché dovrete prendere il vostro missile guidato dovreste saltare nel launchpad e allo stesso tempo prima di toccare la pedana andare a tirare il missile. In questo modo il personaggio sarà completamente glitchato e farà queste cose molto molto strane. E ripeto questo glitch vi stranierà completamente dalla partita quindi nessuno potrà vedervi. Quindi diventerete a tutti gli effetti invisibili nella partita. Io mi invito a condividere con tutti i vostri amici questo video mi raccomando fatelo in tanti prima che venga subito patchato. Anche perché questo bug è molto importante e quindi l'IP Games lo toglierà subito. Se conoscete altri bug del genere mi raccomando fatemelo sapere subito qui sotto nei commenti. Anche perché anche a me molte volte in delle partite molto molto particolari magari quando stavo per vincere o anche quando stavo per perdere mi accadevano dei bug molto strani. E ovviamente io non stavo registrando quindi tutto questo è finito subito nel dimenticatoio. Se magari volete provare questo bug con tutti i vostri amici magari per evitare che qualcuno vi uccida andate direttamente in parco giochi. Così sarete sicuri che nessuno vi potrà killare o con una cecchinata o con una pompata e potrete divertirvi con i vostri amici. Quindi raga io spero veramente tantissimo e questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi e commentate. Non dimenticatevi ancora una volta di seguire tutti i passaggi per il contest perché come vi ho detto prima questa settimana ci sarà il vincitore. Detto questo io vi auguro buona fortuna per la buona riuscita del bug e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.